Ora si registrerà la conferenza. Perfetto, allora buongiorno a tutti, siamo online con un nuovo GeoBreak, torniamo insomma dopo quello precedente, torniamo a parlare di QGIS, nello specifico abbiamo oggi appunto Matteo Ghetta di Faunalia, che ci parlerà un po' di tutta la parte, forse quella che resta sempre un pochino più diciamo nascosta, di cui si parla sempre un pochino meno, che sono appunto diciamo la possibilità di fare scripting Python direttamente in QGIS, le API di QGIS e quindi la possibilità di sviluppare insomma script, nuove funzioni, strumenti di processing, fino ad arrivare addirittura appunto a plugin e chissà, magari mettere anche un po' mano invece al codice core di QGIS. Lascio la parola direi a Matteo, che insomma così iniziamo e poi io come sempre la parte finale la dedichiamo magari a un po' di domande, discussioni e via dicendo. Grazie intanto Matteo per insomma aver accettato di tenere questo GeoBreak e ti lascio la parola. Va bene, grazie Roberto, grazie a voi per l'invito, insomma è un piacere tornare da voi, ritornare a fare colazione con voi. Così come anticipava Roberta, la parte di cui discuteremo oggi, io vi farò ovviamente una panoramica, nel senso che in un'oretta, tre quarti d'ora è abbastanza impensabile riuscire ad avere degli approfondimenti grossi insomma su questa parte, che è quella più nascosta ed è anche quella non più complicata, ma sicuramente quella più complessa che riguarda QGIS. Io inizierei, l'ho pensato un po' così ovviamente, vi farei vedere una carrellata di un paio di... Prima faccio un'introduzione molto poco teorica, ma che è sempre la parte che viene distrattata insomma da chi pensa, da chi non sta ancora sviluppando e che vuole entrare in questo mondo, quindi qual è la panoramica di dove si trovano le informazioni e così via, perché molte persone, chi si approccia al mondo dello sviluppo, siete a volte, queste persone sono abituate a dire, vabbè io ci provo, scrivo del codice, poi inizia a funzionare, poi non funziona più, poi mi arrendo. In realtà io credo che almeno un tre quarti del lavoro di uno sviluppatore sia quello di leggere la documentazione, e questo sembra abbastanza strano, però insomma il lavoro, prima ci si pone l'idea di quello che bisogna fare, poi si va a vedere se e quali parti della logica che si ha in testa sono già state fatte, quindi si possono riutilizzare, e questa è poi una delle belle cose dell'open source, ovviamente dove andare a reperire queste informazioni e come metterle insieme, quindi insomma si toccano diverse diverse categorie. Allora, io avrei, aspettate che... Ok, sì perché ho due schermi, quindi dovreste vedere lo schermo adesso, in questo momento. Diciamo, a mio avviso la qualità di un software può funzionare ovviamente molto bene dal punto di vista dell'utente finale, quindi immagino, non lo so, da LibreOffice o da tutti i software che sono un po' più front-end, lì a questo punto sono software dove una persona si mette e può direttamente usarli per lo scopo finale. Un software come QGIS che si presta molto bene a essere categorizzato, insomma, in questo settore, in realtà si espande o può essere utilizzato anche per espandere moltissime funzionalità del software stesso, insomma, cioè QGIS fa tante cose, ne possiamo fare praticamente infinite. Quindi, da un altro punto di vista, QGIS altro non è che, vi direi, al di là del software di sé, è come se fosse un libro di ricette in cui noi abbiamo la possibilità di leggere gli ingredienti, di leggere delle ricette già fatte, ma di aggiungere le ricette che vogliamo noi. Io non faccio nessun tipo di storia e controstoria, per carità. Questo è il, come sapete, insomma, il repository di QGIS, GitHub, che cambia interfaccia molto spesso, eccola qua. Come vedete, QGIS è un software che è scritto per la maggior parte in Cpupiù, non è un software scritto in Python. Python, per quanto riguarda questo è un conteggio che GitHub fa sul codice in sé, su tutte le parti, su tutti i file che hanno a che fare con il codice sorgente, quindi vedete che sostanzialmente QGIS nasce e continua a essere un software in Cpupiù, ok? Dall'ultima presentazione che ho fatto appunto qui al GeoBreak, vi dicevo che nel 2000, e non mi ricordo, abbastanza presto, 2008-2009, uno sviluppatore core di QGIS, Martin Dobias, ha dato l'opportunità di estendere le funzionalità di QGIS da Cpupiù a Python. Python, a differenza di Cpupiù, è un linguaggio che si interpreta da solo, adesso senza scendere nei tecnicismi, insomma, quindi così come lo si scrive, lo si può seguire, mentre Cpupiù è un software che prima deve essere scritto, poi compilato e poi si vedono appunto i risultati. Quindi Python è un po' più rapido, ha diverse caratteristiche inferiori, fra cui per esempio le prestazioni rispetto a Cpupiù, però si può usare il codice Python dentro QGIS. Allora, il contenitore principale di QGIS, cioè il ricettario, come vi dicevo prima, degli ingredienti, sono, eccolo qui, sono le API, le API, quindi queste Advanced Programming Interfaces di QGIS, delle varie versioni, ok? Queste sono scritte in Cpupiù. Dalla versione 3 di QGIS, quindi ormai da diverso tempo, c'è la possibilità di accedere qgis.org.pyqgis, anzi, ve lo faccio vedere proprio così, eccolo qui, c'è la possibilità di accedere a tutte quelle che sono le API disponibili in Python, che non sono tutte quelle in Cpupiù, ma quasi, delle diverse versioni, ok? Quindi a seconda, questa è già una delle cose molto importanti, a seconda della versione che state utilizzando, e sulla quale volete sviluppare del codice, è importante che voi andiate a consultare la documentazione corretta. Io in questo momento sto utilizzando, insomma, per questi esempi che vi farò vedere, userò la 3.16, quindi questo vi direi che è il primo contenitore da guardare, appunto a seconda della versione, qui, abbiate un attimo di pazienza, poi vi spiego brevemente queste cose. L'altro contenitore, l'altra documentazione molto importante, è il ricettario, faccio un po' più piccolo magari, eccolo qui, che è nella documentazione ufficiale, sempre di QGIS, qui sempre a seconda della versione, anche se qui siamo un po' meno aggiornati, nel senso che non ce la facciamo a starci dietro, quindi trovate le informazioni per quanto riguarda le versioni, eccolo qui, sostanzialmente l'ultima versione LTR, e l'ultima versione di testing, quindi qui una 3.18, non lo troverete mai qui la 3.18, mentre nelle api di QGIS, anche se non c'è ancora, comparirà, insomma, quindi qui vedete l'LTR e l'ultima versione disponibile, però non c'è mai una differenza così grossa, insomma. E dall'anno scorso questo ricettario, appunto questo libro di ricette, è stato aggiornato, cioè il codice che vedete è aggiornato, avete un'introduzione che io invito a leggere, per poi passare a quelli che sono degli esercizi veri e propri, di cui io ne utilizzerò alcuni, nel senso con altri dati, rispetto a quelli previsti dal ricettario, insomma. Però vi farò vedere, insomma, una carrellata di esercizi, insomma, di codici che possiamo utilizzare per avere accesso, per poter giochi chiare con i nostri dati. Quindi queste due sono veramente le prime e le due fonti di informazione più importanti. Vado un attimo, eccolo qui, questo è il mio QGIS, è un progetto vuoto questo, non ho ancora caricato nessun dato, e ho aperto semplicemente la console di Python. Qui anche una piccola premessa, che è anche l'ultima. QGIS si basa su tre pilastri fondamentali. Uno è, stiamo parlando adesso di Python, quindi uno è Python 3, ovviamente l'altro pilastro sono le API di PyQGIS, quindi tutte le funzioni proprie che sono state, che sono accessibili e che si possono utilizzare per fare delle operazioni, come poi vedremo, insomma, avere accesso alla geometria, piuttosto che agli attributi, piuttosto che alle singole features, o ai campi, o eccetera. Il terzo e ultimo pilastro è quello delle QT. Per chi non le conoscesse, QT è un altro software scritto in C++, eccetera, eccetera, che però è utilizzabile anche da Python, tramite l'interfaccia PyQT, ovviamente, che è un software che permette di scrivere, di creare l'interfaccia grafica, sostanzialmente. Cioè, QGIS non si è inventato in modo di piazzare i bottoni nelle toolbar, di fare, di creare i vari pannelli, ma si appoggia, diciamo così, a questo software esterno. Essendo questo un software esterno, ma inglobato dentro QGIS, si possono utilizzare tutte le varie funzioni per creare delle interfacce. Ovviamente, già questo che vi sto dicendo, vi fa capire che le API di PyQT sono quelle che si utilizzano per creare i plugin prettamente. Non è raro, anche se ovviamente si può fare, creare uno script che abbia delle interfacce personalizzate, ma è più probabile che voi le vostre interfacce le creiate appunto quando le volete utilizzare all'interno del vostro plugin. Quindi queste sono i tre pilastri, più o meno, ognuno con le sue documentazioni, quelle di Python, quelle di PyQT e quelle di PyQGIS. Quelle di PyQT sono un po' scarne, in realtà, anche se ci sono, si deve consultare il codice, le documentazioni in C++, ma è uguale. Avete una corrispondenza 1 a 1, sostanzialmente. Bene, allora, io di solito quando faccio i corsi di PyQT, la cosa che dico sempre, e qui magari, insomma, gli studenti che sono venuti in alcuni, in tomei corsi, dicono sempre, sì, però io voglio imparare, vengo a fare un corso di PyQGIS, perché voglio imparare a scrivere un plugin. Ecco, il plugin è l'ultima cosa che voi dovete pensare di fare dentro PyQGIS, non perché sia sbagliato farlo, assolutamente no, però dovete chiedervi se quello che volete fare lo potete fare in maniera più semplice rispetto allo sviluppo di un plugin. Un plugin è molto potente, ci sono dei casi, ovviamente, in cui la creazione di un plugin è necessaria, perché l'operazione che fate è... non si può fare in altro modo, altrimenti si, a mio avviso, si procede per step. Potete fare uno script, ci sono tanti modi, adesso ve li mostrerò senza entrare nel dettaglio, in cui potete utilizzare codice Python in maniera abbastanza semplice, sempre all'interno di QGIS o all'interno di un progetto di QGIS, avete gli script di processing, che vi mostrerò dopo, avete un plugin di processing e poi avete un plugin finale. Quindi questo, secondo me, deve essere un po' la strada. Altrimenti rischiate di sviluppare un plugin che fa delle cose che potevate sviluppare in un'altra maniera e vi costa molta fatica mantenere il codice di un plugin, perché dovete aggiornarlo, perché avete molti più file, perché appunto è più complesso, è semplicemente più complesso. Più cose delegate ai contenitori, che in questo caso è QGIS, e meglio è, meno lavoro c'è per voi, sostanzialmente, insomma, il discorso è un po' questo. Ok, allora, queste erano un po' le premesse. Allora, come vi dicevo, qui sostanzialmente, per le API, insomma, le funzioni che andremo ad utilizzare in maniera molto semplice, vi dicevo, utilizziamo dati diversi, ma sostanzialmente gli esercizi che vi mostro, a parte magari qualche descrizione in più, li avete accessibili dentro il ricettario, il cookbook di PycoGIS, del sito originale. Dovete pensare che le cose qui, insomma, l'organizzazione del codice di QGIS, si basa sostanzialmente su quelli che vedete a sinistra, questi sei contenitori, di cui praticamente, praticamente, nel 95% dei casi, sono, utilizzerete i primi due, ok? Core e GUI. Analisis invece sono, analisi server processi di 3D, sono contenitori che appunto contengono funzioni un po' più settoriali, che ovviamente, per farvi capire, server ovviamente contiene tutte le funzioni che hanno a che fare col server, analysis contiene delle funzioni che hanno invece a che fare con, per esempio, non lo so, l'interpolazione, per intenderci. Core e GUI invece contengono sostanzialmente tutto il resto. Core, tutto ciò che è appunto Core, tutto ciò che è nel nucleo di QGIS, GUI, tutto ciò che riguarda l'interfaccia grafica di QGIS. L'interfaccia grafica intendo anche una semplice barrettina, per mostrare un messaggio di avvio, o solo per informare l'utente, quindi GUI, graphical user interface, Core tutto il resto, ok? Quindi, a seconda di quello che dovete sviluppare, molto probabilmente, utilizzerete sicuramente questi due contenitori, e poi magari qualcosina anche degli altri. Per intenderci, nel cookbook di PyQGIS, sono quasi esclusivamente utilizzate questi due contenitori, insomma, ok? Allora, bene, adesso, qui non ho fatto vedere, ok, così riesco ad ingrandirlo un attimo, bene. Allora, quando voi avviate QGIS, quando voi aprite la console di Python, vi compare già qui un messaggino, ok? Questo messaggino vi dice, scusatemi, vi dice che potete utilizzare una cosa strana, che viene chiamata I-Face, per accedere alle API dell'interfaccia di QGIS, quindi, quello che vi dicevo adesso, sostanzialmente, tutto ciò che ha a che fare con l'interfaccia di QGIS, i vari bottoni, eccetera, eccetera, potete accedervi, accederci tramite questo oggetto, insomma, questa cosa strana, che si chiama I-Face. I-Face è una brevazione di interface, ok? Bene, allora, giusto se io qui posso anche aprire, eccolo qui, apro dei dati, di esempio, questo è un dato che trovate nei dataset di Natural Earth, sono i Populated Places, per intenderci, ok, quindi non c'è niente di così strano, questo layer qui, noi pensiamo, possiamo pensare sostanzialmente, di andare a trasformarlo, anzi, per poterci fare qualcosa, dobbiamo in qualche maniera andare a trasformarlo in un oggetto di Python, ok? Cioè, noi l'abbiamo caricato dentro la leggenda, vi mostrerò due modi diversi, cioè adesso questo io l'ho caricato a mano, noi possiamo andare a salvare, stoccare, insomma, questo, trasformare questo oggetto in una variabile, sostanzialmente, del nostro script di Python. Possiamo chiamarla come volete, io la posso chiamare Pop, Places, ok? E qui adesso utilizziamo ciò che la console ci sta suggerendo, ovvero iFace, ok? Mi raccomando, adesso questo ne parlavo prima, l'autocompletamento è molto importante, ok? Questo vale dappertutto, sempre e comunque, però, meno scrivete, meno possibilità di errore avete, potete fare, insomma, quindi è molto meglio che voi lasciate, utilizzate l'autocompletamento, ok? E se guardate, adesso questo poi ve lo spiegherò, ve lo farò intravedere, insomma, nelle varie, nella documentazione, insomma, non di iFace, quando scrivete un punto, questa sostanzialmente è un'istanza, è una classe, punto, avete i metodi, i metodi sono delle funzioni, quindi tutto ciò che compare dopo il punto, sono delle funzioni che fanno qualcosa. active, adesso lo cerco, eccolo qui, è un po' grande il punto, ma dovreste comunque vederlo, eccolo qui, come vedete, il secondo, active layer, qg.utils.iface, che appunto è ciò che stiamo utilizzando, lo autocompleto, essendo un metro, devo eseguirlo, Python per capire che deve eseguire questa funzione, vuole un'apertura e una chiusura delle parentesi, se eventualmente ci fossero dei parametri, cioè una funzione accettasse dei parametri, li dovremmo inserire qua dentro, questo invece non vuole nessun tipo di parametro, ok? Quindi adesso io lo faccio, nel senso, avvio il codice, lui non si lamenta, ovviamente se qui dovesse comparire qualcosa di rosso, come in questo caso, ok? O qui nella console, perché state sbagliando, oppure se sbagliate qualcosa e vi compare qualcosa di rosso, dentro proprio la console di Python, e non nello script, dovete andare a vedere che cosa è sbagliato, lui vi dà sempre una mano a capire qual è la riga, la riga incriminata che può contenere l'errore, ok? Qui lui non si lamenta, e a questo punto non succede niente, sembra che non succeda niente, però il nostro pop places, possiamo anche stamparlo, ok? Anche questo riesco ad ingrandirvelo un attimino, ve lo faccio vedere in una riga sola, sostanzialmente con questa riga noi siamo, abbiamo preso, abbiamo trasformato un qualcosa che è caricato in leggenda, in un oggetto di Python, con il quale noi possiamo farci un po' quello che vogliamo, ovvero possiamo andare ad utilizzare tutti i metodi dell'oggetto che noi abbiamo appena creato, perché noi lo abbiamo creato questo oggetto, ok? Cioè questo pop places è una variabile che prima non esisteva, noi l'abbiamo creata tramite un qualcosa, un metodo, una classe, una funzione, che QGIS ci mette a disposizione, però l'abbiamo creato noi, e questo è un oggetto di tipologia QGIS Vector Layer, ok? Giusto per farvi capire, questo è un aneddoto abbastanza interessante, praticamente tutte le classi di QGIS iniziano con QGIS, QGIS Vector Layer, immaginatevi, non ve lo dico, ma lo vedremo dopo, come si può chiamare un raster, ok? Questo QGIS, voi dite sì, è come un QGIS, è l'abbreviazione su un acronimo di QGIS, in realtà l'aneddoto è abbastanza interessante, perché Q di QGIS, per chi non lo sapesse, QGIS è stato creato, inventato ormai quasi vent'anni fa, da un signore dell'Alaska, che si chiama Gary Sherman, quindi Q. Gary Sherman, questo è un piccolissimo aneddoto, che non si capisce, se appunto è un acronimo di QGIS, oppure se è un, come un regalo che è stato fatto a Gary Sherman, che si è autofatto a Gary Sherman in realtà, ok? Quindi questo è un primo metodo per trasformare un qualcosa che abbiamo caricato dentro la leggenda di QGIS in un oggetto pythonico, con cui appunto noi possiamo farci quello che volete. Quello che volete vuol dire che, quali sono le funzioni che appartengono a questo oggetto di tipologia, appunto QGIS vector layer, voi non lo sapete, non lo so neanch'io, nella documentazione avete la possibilità, in PyQGIS, nella documentazione di PyQGIS, la cosa che dovete fare è andare a cercare l'oggetto con cui avete a che fare, ok? Cercarlo, lui lo cerca, ce ne sono tanti, vedete, però il primo, se scrivete bene, il primo è quello corretto, state un attimino attenti, perché a volte, vedete, avete un QGIS vector layer 3D renderer, e non è l'oggetto giusto, non è l'oggetto che avete creato, ok? una volta che andate dentro la documentazione, lui vi fa questo highlight, che a me mi infastidisce, un attimino ve lo tolgo, che è semplicemente questa cosa gialla, ok? Qui vi sta dicendo, vi sta descrivendo, tutto ciò che appartiene a questa classe di Python, questa classe avrà diversi metodi che guarderemo, ma si può anche, la utilizzeremo adesso, per caricare un layer da disco, diciamo così, per creare un oggetto appunto ex novo, ovvero appartiene, come vedete, al contenitore QGIS core, come vi dicevo prima, questa è la classe, e qui avete quello che si chiama il costruttore, ovvero come si costruisce un oggetto, e lo faremo fra poco, al di là di questa descrizione, se scorrete un po' verso il basso, questo è uno degli oggetti ovviamente più complessi, di PyQGIS, cioè è fatto da molti metodi, e il costruttore è molto complesso, però eccoli qui, avete i metodi, i metodi come vi dicevo prima, in Python li potete tradurre, o comunque è un sinonimo di funzioni, cioè voi avete tutti questi metodi, che sono appunto tanti, adesso io ve li faccio vedere, sono veramente tanti, che voi potete utilizzare per andare a fare qualcosa, scatenare un evento sostanzialmente, ok? Vedete che ce ne sono, anzi questi sono segnali, perdona, era andato un po' troppo giù, però vedete che ce ne sono veramente, veramente tanti, tra cui ce n'è uno molto semplice, che adesso utilizzeremo, che si chiama feature count, ok? A seconda della complessità della funzione che voi utilizzate, avete una micro descrizione qui, che comunque vi dà già un'idea, altrimenti questo è un link cliccabile, se ci cliccate, lui vi porta nella stessa pagina, all'ancora di questo metodo, con una descrizione più completa, in generale quello che vedete, nella descrizione, eccolo qui, questo è il metodo, ok? Eventualmente ci sono, delle, delle, dei parametri che possono essere utilizzati o meno, a seconda che siano già, che ci sia un parametro predefinito, ma la cosa interessante, è ciò che compare dopo questa freccetta, che è, ciò che questo metodo, quindi che questa funzione, vi restituisce, ok? Quindi questa funzione, vi restituisce un numero intero, che è il conteggio degli elementi totali, quindi ci va, andrà a dire nel nostro caso, quanti punti ci sono, avete una descrizione un po' più, un po' più lunga, avete una descrizione di quello, di quello che vi restituisce la funzione, eventualmente avete un'altra descrizione, ancora più dettagliata, ok? Questo vale un po' per tutti i metodi, ce ne sono, ci sono tutti i metodi, tutte le classi sono descritte, alcuni metodi, specialmente quelli più recenti, sono descritti non meglio, ma sono descritti più in dettaglio, quelli più antichi, sono lì, e sono comunque descritti, sono comunque descritti, ok? Quindi, questo lo lascio qui, torno un attimino in QGIS, questo appunto è un nostro oggetto, questo pop places, è un nostro oggetto che, che è di tipologia QGIS vector layer, e quello che possiamo fare noi adesso, possiamo, conteggio, possiamo stoccare in un'altra variabile, pop places, punto feature count, ok? Apro e chiudo parentesi, eccolo qui, lui vi dà una mano, anche qui, insomma, l'autocompletamento, o il tooltip, vi aiuta, vi fa vedere quello che vi ho mostrato adesso, ovvero come si usa, nel senso che qui non ci sono parametri, e che cosa vi restituisce, quindi anche questo, a questo è una, non so se tutti lo sanno, comunque, non dovete ogni volta rilanciare tutto lo script, anzi, a volte non ha senso, perché magari, la prima parte del vostro script, è molto onerosa in termini di tempo, se volete lanciare solamente una piccola parte, cioè il selezionato, se voi selezionate, potete fare control e, ok, e lui lancia solamente la parte selezionata, python è abbastanza implicito, cioè lui ha creato questa variabile, noi le abbiamo chiesto di mostrarla, il conteggio, ok, 200, quindi ci sono 200 punti, che è un po', è la stessa identica cosa, di mostrarli qua, quindi questo è un primo metodo, un primo modo, molto semplice per lanciare un qualcosa, a livello pythonico, insomma, su di un layer vettoriale, ok, come vi dicevo, torno un attimino nella documentazione, e vi vado in cima, vado in cima della classe QGES Vector Layer, e volevo mostrarvi, perché questo discorso vale ovviamente per una classe, che è QGES Vector Layer, ma vale anche per tutte le altre classi, come se esiste in alcune classi, quello che viene chiamato il costruttore, esiste sempre perché è il modo con cui noi da zero, costruiamo una classe, noi qui abbiamo utilizzato, il metodo Active Layer della classe I-Face, come trucchetto, per fare in modo che QGES ci restituisse in automatico questo oggetto, adesso invece andremo a crearlo proprio noi da zero, quando voi create un oggetto da zero, dovete andare a vedere, come si costruisce questo oggetto, ok, e il come si costruisce, lo vedete fra le varie parentesi, appunto nel costruttore, cioè nella descrizione iniziale, e la descrizione di ogni singolo parametro, vedete path, path, base name, base name, provider lib, provider lib, options, e options, li vedete appunto descritti sotto, ok, attenzione che come vedete, path è impostato, vi dice già, questo è proprio il modo pythonico per descrivere i vari parametri, str è stringa, ed è già impostata su niente, cioè una stringa vuota, idem il base name, idem il provider lib, ok, options invece è già impostato, vuole un parametro di tipologia QGES vector layer, layer options, ed è già impostato su questo oggetto che è vuoto, ok, quindi sostanzialmente noi, adesso ve lo mostrerò passo per passo, possiamo costruire questo oggetto senza specificare niente, poi però dovremo andare a vedere, o ci accorgeremo che questo oggetto non è valido, ok, ovvero, posso andare qui e mettere il mio vettore, ok, mio vettore uguale QGES vector layer, ok, se io apro parentesi, adesso qui mi sta andando un po' anche nell'altro monitor, perché ho il fondo un po' più grande, però qui riuscite a vedere la stessa cosa che vi dicevo, qui c'è il path, ok, base name, provider lib e le options, ok, ma se io faccio così, vi pulisco un attimino la console, se io prendo solo questo, ok, vedete che lui non si lamenta, nel senso che lui ha costruito, posso anche metterlo qui, eccolo qui, noi lo abbiamo, adesso qui ho semplicemente stampato la tipologia di questo oggetto, ed è un oggetto che noi abbiamo costruito, ok, senza che ve lo faccia vedere nella documentazione, esiste un metodo che in realtà è ereditato da altre classi, che si chiama isValid, per capire se l'oggetto con cui abbiamo a che fare è valido o meno, possiamo stamparlo, print, mio vettore, punto, isValid, ok, false, non è valido, cioè, noi l'abbiamo costruito, ma questo oggetto non è valido, perché? Perché noi abbiamo detto qual è il percorso di un file, per esempio, di uno shapefile, piuttosto che le informazioni che potete trovare, se il vostro dato è contenuto all'interno di un database, che sia Postgres, MySQL, quello che volete, un WMS, un WFS, insomma, tutto quello che poi trovate nel cookbook di QGIS, noi abbiamo detto qual è il dato, e noi gli abbiamo dato neanche le altre tre informazioni, che adesso vi spiegherò, quindi, vado qui e lo sovrascrivo semplicemente, vector layer, ok, apro parentesi, vado a capo, così lo faccio un po' più ordinato, ok, riga per riga, senza che vi rifaccia vedere la documentazione, vi ricordate, abbiamo tre parametri fondamentali, che sono appunto il primo parametro, che nel caso la faccio abbastanza semplice, ovvero il percorso del layer caricato su disco, ok, come stringa, base name è il nome che noi volevamo far comparire, leggenda del vettore, che noi abbiamo appunto, del percorso del file, e poi quella che si chiama la provider leave, che è la libreria che interpreta il file, per esempio, Postgres, nel caso di un dato Postgres, in tanti, nella maggior parte degli altri casi, abbiamo il provider che si chiama OGR, perché OGR è la parte, la libreria, il provider che si incarica insieme a GDAL, GDAL per i dati raster, OGR per i dati invece vettoriali, ok, allora io qui ho già aperto il mio file, il mio disco, diciamo così, la mia cartella, quella che vedevate nel browser, ok, posso anche andare a riprendermi in populated places, ok, e qui copio, faccio sto facendo CTRL-C, quindi l'ho copiato, e qui ho copiato sostanzialmente il percorso, magari qui per un po' più grande, lo metto nella stringa, ok, se riesce a vedere, virgola, quindi questo è il nostro primo parametro, path, il secondo che è base name, lo chiamo pop places, diciamo da disco, così lo distinguiamo da questo, ok, e l'ultimo parametro, sempre come stringa o gr, ok, quindi questi sono i tre parametri, l'ultimo, come vi faceva vedere la documentazione, non è obbligatorio affinché il costruttore sia valido, o meglio, l'oggetto che viene creato dal costruttore sia valido, perché sono delle opzioni in più, già la parola opzione è qualcosa di opzionale, non è obbligatorio andare a specificarsi, faccio così, lui non si lamenta, questo già vuol dire che la sintassi è corretta, posso andare a riprendere con la freccia su, eccolo qui, stavolta, lo riprendo anche così, così, lo vedete, eccolo qui, stavolta la voce è true, ovvero è valido, cioè quello che ho creato va bene, però non compare su di, non sta compare in leggenda, sono due processi diversi, uno è la creazione di un oggetto, quindi nel nostro caso la creazione di un vettore, questo è un discorso, un altro discorso è quello di caricarlo in leggenda, ok? Questo perché appunto QGIS è abbastanza implicito, voi potreste prendere questo vettore, farci delle operazioni, qualunque tipo di operazione spaziale o non spaziale, e poi dopo che lo avete, dopo che ci avete giocato sopra, potreste volerlo caricare in leggenda, a volte invece un vettore o un altro dato, vi serve come tramite per altri algoritmi spaziali, e quindi questo specifico dato, voi non lo volete caricare in leggenda, quindi sono proprio due passaggi diversi, ok? Per caricare in leggenda, per caricare un oggetto in leggenda, si utilizza, questo è anche tutto quello che vi sto dicendo, è contenuto dentro il cookbook, non c'è niente di esoterico, diciamo così, ok? Si utilizza un oggetto, diciamo così, una classe che si chiama QGS Project, QGS Project, ok? Ma in realtà si utilizza non tanto questo oggetto, ma un'istanza di questo progetto, perché questa istanza, questo progetto è, diciamo così, univoca, cioè voi potete avere un progetto, una volta dentro QGS, ok? Quindi quello di cui ha bisogno QGS è dire, prendi questo progetto e creami un'istanza di questo progetto, ok? Instance, eccolo qui. Questo sempre se andate a vedere la documentazione della classe QGS Project, avete un metodo che si chiama Instance, che vi crea appunto quello che, quello che è un'istanza del vostro progetto. Posso anche salvare una variabile così, lo facciamo invece in maniera molto più esplicita, ok? Se andate a vedere quelli che sono i vari metodi della classe QGS Project, quindi dell'istanza, avete un metodo, progetto, punto, add map layer, ok? Ecco qui dentro. Quindi, se andate a vedere nella documentazione, possiamo aggiungere un map layer. Map layer, questo è un modo furbo che hanno i vari linguaggi, i vari software, tra cui QGS, ci sono delle funzioni condivise fra un vettore, un raster, un layer mesh, e le varie altre tipologie di dati, i point cloud di cui si parlava prima, ci sono delle funzioni condivise, quindi abbiamo il contenuto, anzi, le fondamenta, più che partire da sopra, abbiamo l'oggettone principale che si chiama, che fa riferimento a un map layer. Da questo map layer abbiamo poi un QGS Vector Layer, oppure un raster layer, o un mesh layer, o eccetera, con i loro metodi specifici. Giusto per intenderci, un map layer ha comunque un metodo per estrarre l'estensione territoriale, e questo va bene, è sensato, sia per un vettore, che per un raster, che per un mesh, mentre non ha senso per un vettore parlare di risoluzione, mentre ha senso parlare di risoluzione per un raster. Quindi il metodo per andare a estrarre la risoluzione da un raster, è sensata per un raster, ma non è sensata, e non ci sarà quindi per un layer vettoriale. Ok? Quindi, creo questa istanza, ok? E come vedete, pop places da risco. A questo punto, ovviamente, un apposto all'altro, ok? Qui vado rapido, e cambio colore rapidamente, senza che ci incasiniamo. Come vedete, qui abbiamo creato, abbiamo caricato un nuovo vettore, il nostro vettore, da disco, però in, appunto, in leggenda, che ovviamente è speculare all'altro. Ok? Quindi, questo è un primo metodo, un primo flusso, per fare un'operazione molto banale, però, vedete che, riuscite a prendere qualcosa, da disco, e caricarlo, appunto, in leggenda. Ok. Adesso, per entrare un po' più nel vivo, per quanto riguarda, sempre questi layer vettoriali, un po' a capo così, riesco a farvi vedere sempre meglio, se questo ve la apro, vi apro la, la tabella degli attributi così, eh? Questa è la tabella degli attributi, che non è veramente speculare, nel senso che abbiamo uno, i due, i nostri due layer, sono esattamente gli stessi, e come vedete qui, abbiamo diversi campi, non sappiamo quanti, e abbiamo diverse, diverse features, quindi diversi elementi, quanti? lo sappiamo, due centri, li abbiamo contati prima, ok? Quindi, qui ne abbiamo diversi. Noi possiamo accedere, se andate, su questo, sempre ve lo faccio vedere, ma se guardate la documentazione, eh, della, della classe, QGS Vector Layer, lo potete andare a vedere, anche in quel modo, anche lì dentro, possiamo accedere, ad alcune delle informazioni, in realtà, ovviamente, a molte informazioni, eh, contenute all'interno, di un layer vettoriale, sia per quanto riguarda i campi, sia per quanto riguarda gli elementi, quindi le features, ok? Adesso possiamo andare subito a fare una iterazione, per andare a stampare, per andare a mostrare, quelli che sono, quello che è l'elenco, dei singoli campi, quindi dei singoli attributi, eh, contenuti all'interno del nostro, il mio vettore, quindi il nostro pop places da disco, ok? Faccio un loop, for f, giusto perché si chiamano field, in, eh, mio vettore, punto, fields, ok? Qui sto entrando in un loop, quindi andrò a capo, però mi fermo un attimo, vedete che il metodo fields, che appartiene alla classe, QGS Vector Layer, vi restituisce un oggetto, che si chiama QGS Fields, questo è un suggerimento che vi do, quando sviluppate codice, specialmente in QGS, molto spesso, una classe cambia molto, se c'è o meno una S in fondo, ok? Cioè i fields, un oggetto, l'oggetto fields, conterrà tanti field, quindi è come il nostro campi, che conterrà tanti singoli, quindi una, sarebbe quasi il contrario, insomma, la nostra, il nostro oggetto, ne contiene tanti più piccoli, ok? E questa cosa è visibile tramite la S, feature, features, change attribute value, change attribute values, quindi spesso, questo vi assicuro, insomma, che capita di fare, di fare errori a tutti, l'errore spesso è dovuto a questo, a questa S finale, agite, siete convinte di agire, su una moltitudine di elementi, in realtà avete dimenticato la S, o viceversa, insomma. questo se andate a vedere, se volete andare a vedere nel frattempo, la parte della documentazione di QGS fields, vedete che sostanzialmente è una lista, ok? Posso anche semplicemente stampare così, è una, una lista dei singoli campi, vi prendo solo questo, eccolo qui, vedete? ve li mostro entrambi, ok? Vedete? Eccolo qui. Usando questo loop, lui stampa i singoli oggetti, che sono appunto i QGS fields, nome e tipo, nome e tipo, ok? Nome e tipo, e così per tutti. Ovviamente questa tipologia, fa parte del, del campo in sé, se aveste un layer contenuto in un database postgres, avreste una, una ricchezza, insomma, di, di tipologia di campi, è molto più, molto più elevata, date time per intenderci, piuttosto che le num, piuttosto che quello che volete, ok? Integra è 64, sui 64 bit, non c'è niente di strano, real è un numero decimale, string è stringa, questo è un layer, è un shape file, quindi qui abbiamo finito, abbiamo finito la, la diversità dei campi, insomma. Quindi noi qui abbiamo a che fare con i singoli, diciamo, oggetti che si chiamano QGS field, un singolo field, ok? Sempre se andate a vedere la documentazione, lo copio e lo incollo, faccio uguale, però avete un metodo della classe QGS field, per esempio, voi non volete stampare questo oggetto, volete accedere solamente, non lo so, al nome, piuttosto che la tipologia di dato, piuttosto che la lunghezza, quindi da quante cifre può essere composto un campo, o da quanti caratteri può essere composto un campo, un campo di tipologia string, eccetera, ce n'è uno, per esempio quello semplice, che si chiama name, quindi ci mostrerà quello che state vedendo qui, emisfero, check me, lsmat, eccetera, devo farlo vedere, anche qui, ecco qui, questo metodo name, ci restituisce una QString, che è un metodo delle QT, è una string, no? riuscite, riuscite, a volte dovete andare un po' più in intuizione, qui, python, vi direbbe str, str, siccome, questo metodo, estrae un qualcosa, da un oggetto, che è fatto di QG, che è preso dalle QT, lui vi dice che vi sta restituendo una QString, ok? Una stringa del contenitore, grosso QT, che è una stringa appunto, mi pulisco la console, vado, e ovviamente, invece di avere tutte le informazioni, abbiamo semplicemente l'informazione, di quello che è il nome del singolo campo, ok? A questo punto, noi abbiamo, anche se tutto è più a capo, abbiamo iterato sulla, eccola, abbiamo iterato su quelle che sono, su quelli che sono i stati, su quelli che sono i singoli campi, della tabella degli attributi, ok? Quello che possiamo ovviamente fare, è andare a iterare, ed è un metodo che viene spesso, è molto utilizzato, andare a iterare sui singoli elementi, ok? Cambio invece che f, cioè for i in, ok? Il mio vettore, sempre il mio oggetto, punto, il metodo si chiama get features, ok? Quindi prendi le features, in realtà questo metodo, vi restituisce, qui si vede un po', no, si riesce a vedere giusto, vi restituisce quello che in Python, in Java si chiama un iteratore, quindi non vi restituisce la singola feature, il singolo elemento, la singola riga, nel nostro caso, ma vi fornisce un oggetto, che contiene queste informazioni, ma è un iteratore, quindi sa che c'è qualcosa dopo, sostanzialmente, ok? Quindi voi potreste crearvi questo oggetto, e poi utilizzare un metodo di Python, che si chiama next, per iterare sull'elemento successivo, quindi ti mostro io, però poi so che c'è qualcosa dopo di me, qualcosa dopo di me, qualcosa dopo di me, finché non arrivo alla duecentesima riga, in cui non ha più niente, e lui smette di mostrarci le cose. Un iteratore però in Python, non solo in Pugis, è utilizzabile anche all'interno di un loop, quindi all'interno di un'interazione, come in questo caso. Ok? E noi possiamo, qui lo faccio sempre per passi, possiamo andare a stampare, in questo caso, ad estrarre qualcosa che ha a che fare con, andare a vedere questi nostri elementi. Ok? Questo lo copio, e qui vedrete poi duecento righe, eccole qui, arriveremo a duecento, duecentosai perché ci sono le prime cinque coperte, eccole qui, e queste sono righe che vi danno delle informazioni su ogni singola riga, queste righe in console, un oggetto che si chiama QGS Feature. Ok? Quindi, se i campi sono i QGS Field, e tutto questo è il QGS Fields, la vostra tabella degli attributi, letta in senso verticale, quindi delle singole elementi, è un insieme di QGS Feature. È un oggetto, QGS Feature, leggermente più complicato dei campi. Se ci pensate, i campi contengono il nome del campo, la tipologia del campo, altre informazioni però sono sempre abbastanza contenute, insomma, non sono mai troppissime. Per quanto riguarda invece le QGS Feature, sono oggetti che contengono gli attributi, quindi singoli valori, 4, 8, 3, 2, 7, 20, eccetera. Ok? Contengono le informazioni geometriche, qui nei casi dei punti, nel caso dei punti, come in questo caso, le coordinate del punto, ma in realtà come oggetto, adesso ve lo mostrerò, nel caso di un poligono, contiene tutte le informazioni, sempre della geometria, ma di ogni singolo nodo che compone il poligono, quindi è un oggetto che può contenere, che ha diverse, che ha molti più metodi. Se andate a vedere la documentazione del metodo, la classe QGS Feature, vi accorgerete che avete accesso a moltissime informazioni. Ok? fra cui avete un metodo che si chiama Attribute, per estrarre, immaginatevi un po', gli attributi. Ok? Se io vado così, adesso lui stamperà sempre a 200 righe, ma sarà... Oh, vedete, questo è uno dei classici esempi, Attributes. Ho dimenticato la S. Eccoli qui. Ci saranno 200 righe, adesso questo ci mette un po' di più. Stampare a video è una delle cose più onerose per Python. Senza che vi diventiate troppo matti, adesso io vi ho evidenziato la 200esima riga nella mia console, vedete che è una lista. Avete una lista che corrisponde sostanzialmente... Eccola qui. Ah no, lui... Non segue l'ordine, insomma, questo non so come l'ho ordinato. Comunque è una riga che ha a che fare con il benin. Ed è una lista dei singoli attributi. Ok? Per accedere a un singolo campo, al posto di accedere a singoli attributi, voi potreste essere interessati, per esempio, al nome, nome, name. E questo è un metodo di Fujis, non di Python. Potete mettere fra parentesi quadre e fra apici, che siano singoli o doppi, è abbastanza uguale, perché comunque lui vuole una stringa, passandoli questa riga qui, lui sa già che voi volete andare a prendere da questa tabella solamente il campo che si chiama name. Questo lo commento, così non stampiamo tutto questo delirio. Bene. Ah, mi sa che ho dimenticato una parentesi che non l'ho presa qui. Pazienza, lo chiudo qui. Eccoli qua. E come vedete, lui va a estrarci solamente le informazioni di questo campo. Ok? Quindi siamo passati da una feature, da un oggetto QGS feature, a un'estrazione di un qualcosa, di questo oggetto, con il metodo prime attributes, e poi direttamente con questa scorciatoia il nome di un campo, piuttosto che potete mettere virgola e il nome del secondo campo. Armin, eccetera. Questo ve lo lascio così senza che lo faccia. Ok. Ultima cosa per quanto riguarda questi QGS features, poi vi metterò get features. Come vi dicevo, features, noi adesso abbiamo estratto, diciamo, i valori alfanumerici del vettore. Ok? In qualche maniera, invece, noi possiamo andare ad estrarre con un metodo che si chiama i geometri. Ok? È un metodo che estrarà le informazioni geometriche di questo, di ogni singola riga del nostro layer vettoriale. Eccola qua. Ok? Avremo sempre 200 righe che ci dicono che l'oggetto è la tipologia QGS geometri, questo è un punto e queste sono le coordinate del punto nel sistema di riferimento del layer, ovviamente, non in un altro sistema di riferimento. Questo è un 4-3-2-6, è un layer del mondo, un po' l'Africa, insomma, l'avete riconosciuto, insomma, il mondo, il mappamondo l'avete riconosciuto e queste sono semplicemente le varie coordinate. Quindi noi, a questo punto, con questo oggetto, che possiamo anche salvare in una variabile, potremmo poi andare a, per esempio, estrarci quelle che sono le coordinate prima X e poi Y. Ok? Questo ve lo faccio vedere perché il tempo è tiranno, G1.hspoint, cioè estraiamo, vedete, da questo oggetto, estraiamo le informazioni del punto e a questo punto, a questo oggetto, di questa parte, sostanzialmente, vogliamo prenderci la coordinata X, per esempio, punto X. Ok? Quindi qui vedete che siamo passati da una classe, QGS Vector Layer, al suo contenuto, QGS Features, questo I è il nostro QGS Feature, da questo QGS Feature abbiamo estratto il valore geometrico, le informazioni della geometria, e da questa classe, da questo oggetto QGS Geometry, abbiamo estratto prima il punto e di questo punto la coordinata X. Questo è un po' il come funziona in qualunque linguaggio di programmazione. Avete un oggetto principale che potete andare poi a modellare secondo le vostre esigenze in funzione di quelle che sono le informazioni che voi siete interessati ad estrarre. Vado e vado. E abbiamo le informazioni, eccole qui, che sono le coordinate X. Ok? Se avete questo, insomma, poi io questo scritto ovviamente ve lo salvo e vi passo anche il dato, non c'è nessun tipo di problema, provate a immaginare come si estrarre la coordinata Y. Non c'è niente di tanto strano, ok? Bene, allora, visto che il tempo un po' è tiranno, vi farei semplicemente vedere, concludendo, andando verso la parte, verso la conclusione, quali sono le altre parti di QGIS in cui è possibile inserire del codice Python e che sono delle parti appunto un po' nascoste. Ok? Adesso io quindi chiudo proprio la console e mi tengo sempre questo, giusto, per avere un progetto o un qualcosa. Ci sono due, prima di passare, prima di mostrare gli scritti di processing, plugins, eccetera, ci sono almeno altre due parti che vi mostro, ce ne sono di più, ma quelle che mi interessa mostrare sono due. Se andiamo nelle proprietà del progetto, eccole qui, avete una voce che qui ve lo ok, questo non mi si ingrandisce di più, avete una voce che si chiama macros, cioè sono delle macro, esattamente come in LibroOffice, Calc e così via, avete tre macro, sono, fanno parte del progetto, quindi quando aprite il progetto, quando salvate il progetto e quando chiudete il progetto. Questo, questa stringa pass è un modo di Python per poter definire qualcosa, questa è una funzione, def è il modo per definire in Python una funzione e io la definisco ma non fa niente, questo passo significa lascia perdere, cioè io esisto, cioè open project è una funzione che esiste ma non fa niente, passa, lascia perdere. Quindi, a seconda del livello a cui volete applicare del codice aggiuntivo, quando aprite un progetto, quando lo salvate o quando lo chiudete potete applicare un qualcosa, un messaggio nella parte superiore, la classica message bar verde, rossa o quello che volete, ok? Quando aprite il progetto ti sei ricordato di, non lo so, di andare a vedere se il dato è corretto piuttosto che quando lo chiudete se avete i vostri dati su un git potete andare in qualche maniera a fare direttamente con delle libriche esterne di Python, un git add, git commit, git push, eccetera alla chiusura del progetto e lo fai in automatico quindi questo è uno dei primi contenitori molto, secondo me, poco utilizzati e molto utili in certi casi ovviamente se avete necessità di agire a livello di progetto lo chiudo un attimo l'altro vi apro il famoso calcolatore di campi l'altra parte l'altra un altro contenitore all'interno del quale voi potete andare ad aggiungere del codice è la parte delle funzioni vedete qui voi avete come sicuramente conoscete potete inserire tutte le funzioni che appartengono al calcolatore di campi di QGIS ma avete anche la possibilità di inserire una funzione vostra cioè potete andare a scrivere qui lo ingrandisco potete andare ad aggiungere una funzione anche questo è documentato anche se non in maniera super descrittiva ma è documentato dentro la documentazione di QGIS avete un help qua sotto in caso guardatelo che vi spiega quelli che sono i vari parametri arcs group use geometry eccetera eccetera per andare a definire una funzione che poi andrà a finire che poi sarà utilizzabile all'interno del vostro calcolatore di campi sia a livello del singolo layer sia nelle etichette sia nel compositore di stampa eccetera 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 ok? avete un gruppo per esempio custom qui in cui avete le vostre funzioni aggiunte appunto aggiunte da voi con una logica che a voi serve e che non appartiene che non appartiene che non esiste ancora nel calcolatore di campi standard di QGIS nessuno poi vi vieta di andare se la vostra funzione fa una cosa che non appartiene non ha senso solamente con i vostri dati ma è molto generalizzabile andare a proporre appunto delle delle modifiche di aggiungere questa funzione anche nel core di QGIS questo che è successo con il nostro amico Enrico Ferreguti per tutte le sue varie funzioni overlay eccole qui quelle che trovate nel contenitore geometry ci sono diverse funzioni overlay qualcosa overlay within overlay crosses eccetera eccetera che sono state messe dentro il core perché Enrico aveva sviluppato un plugin qualcuno di voi l'ha utilizzato magari si chiamava si chiama ref function che appunto adesso è obsoleto perché queste funzioni avevano senso in maniera facevano delle operazioni generalizzate e sono state aggiunte direttamente nel core di QGIS credo proprio dalla versione 3.16 in poi o 3.14 comunque molto recentemente ecco bene allora l'ultima cosa che vi dico se avete invece della necessità adesso io ve la apro un po' più grossa un po' più grande questo è quello che vi sto per mostrare adesso ve lo descrivo ve lo faccio vedere senza mettere le mani al codice perché appunto non abbiamo tempo è il passo subito precedente a quello dello sviluppo di un plugin ovvero voi potete utilizzare l'interfaccia di processing sostanzialmente per aggiungere degli script che non sono dei plugin ma che compaiono qui ok qui come vedete io ho alcuni o qualche contenitore che mi ha permesso insomma di andare a sviluppare eccolo qui questo è un'interfaccina di un codice che ho fatto io ok che fa determinate operazioni che cosa fa me lo sono scritto qui perché se no riesco di dimenticarlo pure io ok come si fa avete il pulsantino script qua sopra se sapete perfettamente cosa fare potete creare un nuovo script quindi usare la prima voce ma attenzione perché vi compare questa lavagna bianca che non piace a nessuno ok altrimenti potete utilizzare la seconda voce che vi permette di creare uno script nuovo ma utilizzando un template che invece è questo magari i colori qui sono un po' sfortunati se è giallo faccio fatica a vederlo però se guardate questa è una struttura abbastanza minimale di come si scrive di come si aggiunge uno script di python dentro processing con la struttura che a processing serve ok ovvero qui vengono importate le varie le varie classi che servono ok avete una classe che si chiama example processing algorithm guardate questo è molto ben descritto anche nella documentazione però se siete interessati ad aggiungere uno script di processing mi invito a guardare i commenti sotto a ogni classe o a ogni metodo perché la descrizione non è solo descrittiva appunto ma è anche molto esaustiva come descrizione cioè vi sta spiegando come si crea uno script da zero ok quindi abbiamo una classe principale abbiamo alcuni metodi questo per la traduzione questo che crea un'istanza il nome il nome che vi verrà mostrato qui il gruppo eccolo qui cioè il gruppo in questo caso sarebbe table transformation piuttosto che l'id del gruppo una short help string ovvero la finestrella che vedevate prima adesso poi lo lancio questo e poi finiamo finite per avere due metodi principali due funzioni principali all'interno di questo script che si chiamano init per inizializza l'algoritmo scendo un attimo process algorithm lancia anzi procedi fai qualcosa lancia la logica ok ovvero riesco a mostrarveli insieme ok uno è qui e uno è qui quando voi cliccate sul pulsante di run dello script lui avvia questa funzione quindi sta costruendo l'interfaccia grafica e qui vedete che ci sono due parametri un vettore in ingresso e un vettore in uscita ok se adesso io lo lancio lo potete vedere qui un vettore in ingresso che si chiama input layer un vettore in uscita che si chiama output layer ok quando voi pigiate invece sul pulsante run quindi esegui viene eseguito viene lanciato questa parte dell'algoritmo ovvero viene appunto viene eseguita la logica quindi viene 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 preso il layer sorgente ne vengono fatte vengono insomma lanciate diverse parti logiche viene stampato qualcosa push info il sistema di riferimento di questo vettore è quindi questo template è completo nel senso che funziona già se adesso io dovessi lanciare prendo lui mi chiede un qualcosa gli do uno script gli do un un vettore in ingresso lui cosa fa mi crea un vettore in output che è una copia esatta è una copia esatta del mio vettore sorgente però è già un algoritmo funzionante a tutti gli effetti quindi voi già prendendo questo template riuscite a a fare qualcosa modificando solo delle varie parti ultima cosa che vi dico sempre dentro questo script allargo un attimo c'è una parte che è questa che vi sto evidenziando adesso che vi mostra come potete lanciare in realtà degli algoritmi che fanno parte della suite degli algoritmi di processing o in questo caso il buffer ok quindi se adesso io decomentassi o mettessi un if true la posso farci prima per così insomma vediamo se funziona se no comunque è uguale ok bisogna andare a cambiare del core non ha troppa importanza questa è una parte che vi fa capire come voi potete lanciare voi avete bisogno di prendere un vettore in ingresso fare dei calcoli che hanno senso per la logica del vostro utilizzo però poi ci volete lanciare anche un buffer ma non avete voglia di reinventarvi l'algoritmo che va a calcolare il buffer lo fate fare a congresso quindi nel momento in cui io vado a lanciare questa ultima cosa che vi dico poi concludo buffer ve li mostro insieme se ci riesco eccoli qua vedete input input distanza distanza segmento segmento endcap style endcap style eccetera 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 output quindi questo sostanzialmente questo qui è il dizionario comunque è il modo di andare a specificare i vari parametri dell'algoritmo che voi volete lanciare dall'input fino all'output ovviamente in funzione di quali e quanti sono i vari parametri dell'algoritmo che voi volete utilizzare ok anche questo è tutto molto ben documentato all'interno della della documentazione di QGIS quindi è tutto molto ben documentato ok bene allora io mi avvierei verso la conclusione vi direi che poi una volta che voi avete scritto uno o più script trasformare questi script in un plugin di processing se questo lo chiudo ovvero in una cosa del genere ok per esempio piuttosto che di altre parti è molto semplice è veramente molto semplice per non dire immediato cioè lo script tale e quale come lo avete messo lo potete copiare all'interno dell'infrastruttura del plugin che è un po' più complessa per come è fatta e poi lo potete distribuire come un plugin qualunque ok solamente che è un plugin che compare all'interno di processing che poi se volete potrebbe avere anche dei pulsanti insomma nella toolbar però in generale pensateci un attimo perché se qui avete meno opportunità di andare a personalizzare quella che è l'interfaccia grafica perché avete determinati avete una quindicina più o meno di input vettori in ingresso raster eccetera eccetera la costruzione è quella non potete o molto più difficilmente potete andare a costruire una combo box che vi elenca i vettori in rosso in azzurro in verde ma se vi accontentate dal punto di vista dell'interfaccia tutto il resto poi è riguadagnato nel senso che non dovete preoccuparvi di dove compare il vostro algoritmo il vostro o i vostri script compariranno o potranno essere utilizzati all'interno del modellatore grafico piuttosto che un sempre il vostro eccolo qui questo questo lo sto facendo quindi non mi si lancia però giusto per farvi vedere insomma eccolo qui potete lanciare il vostro script che in questo caso è un algoritmo lo potete lanciare direttamente da interfaccia batch quindi potete andare a fare dei lavori iterativi e tutto questo è gratuito nel senso che nel momento in cui dal momento in cui voi avete specificato che il vostro algoritmo fa parte di processing è processing che si carica di tutto l'onere di andare a piazzare tutte queste cose nella parte giusta dopo questo ovvero script processing plugin degli script processing c'è un plugin vero che è molto più performante molto più performante molto più completo per certi per certi aspetti ma appunto non ha senso se quell'operazione la potete fare all'interno della suite processing concludo dicendo che questo poi magari Roberto vi passo il link di un intervento all'ultimo al penultimo FOS4G all'ultimo in persona dal vivo che era a Bucharest di uno degli sviluppatori di Leedsmap anzi dello sviluppatore di Leedsmap René Di Locke che ha preso parte anche alla rifattorizzazione alla riscrittura del codice di processing in cui lui spiega o suggerisce che se voi sviluppatori volete sviluppare state aggiungendo delle funzioni spaziali dei calcoli spaziali un qualcosa di spaziale cercate di aggiungere di farlo tramite un algoritmo di processing e non con un plugin accessorio è anche abbastanza facile che poi un vostro plugin che fa una cosa molto furba venga poi inglobato dentro la suite dell'algoritmo di processing ok? è molto più facilmente mantenibile nel tempo e anche molto più visibile a mio avviso ok ho sforato un attimino però dovremmo grazie mille Matteo e sicuramente insomma è stata una bella infarinatura quantomeno uno spunto iniziale ecco poi è evidente che l'argomento è molto più ampio e sicuramente richiede approfondimenti maggiori lascerei ovviamente la parola a eventuali domande se ne ho già un paio pronte che un paio di curiosità però se qualcuno ha domande ovviamente osservazioni insomma lascio prima ovviamente spazio a voi intanto proprio parlando di approfondimenti ovviamente Matteo voi tenete un corso su PyQGIS su tutta la parte di sviluppo quindi se intanto avete già idea di una prossima edizione magari dovrei guardare il calendario però se non mi sbaglio in questo autunno però se ci sono abbastanza interessati noi i corsi li possiamo fare li possiamo organizzare insomma quando a seconda della necessità insomma perfetto e allora continuo un attimo io con le curiosità così intanto magari vediamo se incuriosisco anche io qualcun altro allora intanto mi chiedevo ma se io inizio a sviluppare script piqgis insomma ovviamente avrò bisogno di eventuale aiuto assistenza esiste una diciamo mailing list dedicata posso scrivere qgis italia qgis dev allora sì direi che in questo ce ne sono ce ne sono tre ovvero quella di qgis italia quella di qgis users e soprattutto però quella di qgis dev anche lì questo io mi ricordo l'avevo citato anche mi sembra l'aperitivo l'ultima volta è chiaro che se la domanda che viene fatta è come carico un layer vettoriale in piqgis la risposta può essere questa però magari prima di porre una domanda cerca un attimino di dimostrare che hai cercato di informarti che poi magari ti sei incastrato perché non hai chiuso una parentesi però non come si fa le istruzioni sono le mailing list i canali sono questi quelli a cui chiedere informazioni ok allora in chat è arrivata una domanda di giuseppe che chiede se esiste una sorta di registratore di macro che scrive il codice corrispondente alle operazioni eseguite quindi un log continuo giuseppe sei il microfono e vuoi attivartelo così magari ci spieghi anche un attimino meglio pensavo ad alcuni software tipo anche di video scrittura in cui per operazioni ripetitive tu fai l'operazione a via registratore fai l'operazione e lui poi ti permette di salvare il codice corrispondente alle azioni che hai fatto no nativamente ti direi di no dovresti pensare di crearti di crearti di crearti il tuo registratore poi si puoi loggare ma non c'è ancora non c'è un sistema che va a rilanciare le varie operazioni come stai come stai dicendo tu sto guardando ok grazie sì no non c'è ancora ok invece una curiosità che ho io da un po' di tempo perché quando poi si scopre un po' il mondo PyQGIS no a un certo punto ti viene quasi più comodo crearti il tuo script piuttosto che fare le cose a mano quindi poi inizia questa sovrapproduzione almeno nel mio caso di script PyQGIS e mi chiedevo se c'è un qualche modo per condividerli cioè poi ovviamente alcuni magari sono delle banalità però io banalmente non ho la mia la capisco la capisco benissimo la tua la tua richiesta e allora il modo canonico però è un po' anche qui un po' sotto utilizzato un po' diciamo così non per la complessità del di tutto ma c'è un plugin che si chiama anzi il plugin che si chiama resource sharing che oltre a condividere gli stili puoi condividere anche gli script per esempio questo questo sì non adesso vuol dire da un mese e mezzo sono due mesi c'è questa nuovo questo nuovo hub di PyQGIS che però è solo per la condivisione degli stili mi pare adesso e forse però non non l'ho seguita poco anche per i template di stampa non so se poi questo hub verrà ingrandito anche per ospitare poi gli script però sì non sarebbe non sarebbe io mi ricordo ancora una proposta in QGIS 2 per gli script proprio di processing che si scrivevano in un'altra maniera avevamo pensato di fare un menu a tendina o inizialmente un menu a tendina o poi insomma poi appunto una cosa si è complicata e non abbiamo più parlato di andare a fare in modo che l'utente potesse andare a prendersi dei code snippet già fatti carica un layer vettoriale aggiungi questo parametro c'è questo c'è quello e lo prendevi con un click in modo da non doverti scrivere le cose e questo potrebbe essere un modo per poi andare a prenderti un qualcosa da da una risorsa online come dice Giulio ci sono anche i gist di di github o di git lab spiazzi un codice lì ha un url lo puoi anche fare privato o pubblico però poi è un modo diverso invece che averli sulla cartella del tuo computer ce li hai su github e quindi se poi se poi ti sei incasinata lì a averne tanti sarai incasinata anche su github un po' è così quindi ti direi queste cose qua ok sì perché ad esempio direi che noi abbiamo una repository sul nostro github in cui li carichiamo però ecco sarebbe bello che poi fosse una cosa cioè veramente accessibile un po' un po' a tutti capisco che arrivare alla nostra repository github magari non è poi così scontato ovvio e semplice cioè mi immagino una roba un po' come visto che prima citavi litsmap la repository appunto di tre lits per gli script javascript aggiuntivi ecco una cosa così secondo me Marzali questo io me l'assegno questa cosa e oggi provo poi a scrivere il mailing list per per vedere se questo hub degli stili si ingrandisce anche si può ingrandire anche lì ti loghi praticamente come quando carica un plugin ti loghi e poi per caricare lo script praticamente non servirebbe nient'altro e lì potrebbe essere per lo meno per adesso hai l'accesso facile a una lista che poi si potrebbero fare le categorie è un quella a fare è scritto in Django quindi c'è la possibilità di farci un po' quello che si vuole però vediamo ci sono altre domande curiosità io una curiosità sul sul modellatore grafico qual è l'integrazione fra il modellatore grafico cioè dal modellatore grafico ho visto che nelle ultime versioni l'avevo un po' testato ma non non so se hai già fatto esperienza su quello nelle ultime versioni si può tirar fuori uno script python sì secondo te è una cosa cioè funziona ne hai fatto esperienza allora io mi ricordo che a un corso un ragazzo proprio mi ha detto che io spiegavo i vari pezzi quello che adesso è stata l'ultima parte insomma in maniera molto veloce così si fanno i parametri eccetera eccetera lui per esempio mi diceva che la sua scorciatoia era quello di crearsi un modello e poi salvarlo in script python perché alla fine ti tira fuori quello che è uno script fatto questo è un modo più rapido di andare a scriverti le cose mano a mano praticamente insomma però che sappia io l'integrazione è fatta da Niall Dawson quindi insomma direi che possiamo essere ragazzi tranquilli però però sì sì lui l'ha l'ha risuscitato da diverso tempo ormai che sappia io personalmente lo uso poco quasi mai però che ho diverse persone che conosco che lo usano regolarmente invece bene se non ci sono altre domande ringraziamo ancora Matteo per insomma la disponibilità e grazie ancora e ci vediamo il prossimo Geo Break 21 aprile in cui parleremo di torniamo a parlare invece di GNSS insomma argomento in cui erano mia dentro però niente grazie ancora a tutti per aver partecipato in particolare grazie Matteo come sempre disponibilissimo grazie a voi grazie a voi grazie a tutti a presto ciao a presto grazie